buongiorno siamo a milano siamo rumbo a mantova perché oggi c'è nostra sera mantovana ed è due low wine continua già una settimana siamo a milano ma dovremmo andare continuare con questo due low wine che a tutto il mondo gli piace grazie alla sommelieria italiana grazie alla situazione italiana sommelier perché hanno fatto un capolavoro di apportare la nostra gente gente chiama al vino un bacione andiamo in mantova siamo l'excelsior siamo qui in fronte a centrale e dovremmo continuare avanti mantova ci andiamo